Raghi, indovinati un po' dove sono Allora, intanto questo bus è mio E sono qui per prendere i baby youtuber dall'aeroporto Perché ovviamente arrivano dall'aeroporto E niente, dobbiamo aspettarli qui E non so se posso prendere un cartello Non ho preparato niente Gli aspetterò qua e basta Oh, eccoli! Guardate che carini! Ciao ragazzi! Ciao, ciao, ciao Salve a tutti, qua voglio parlare di cose serie Io il mio manager Paolo, volevo chiedergli Quanto ci siamo pagati per... Questo è il tuo manager Sì, lui è Paolo E quindi lo vorrei dirti che... No, Paolo! ...quanto benissimo è pagato Ma quanto benissimo è... Noi benissimo, c'è capito Pagati per questo sponsor alla scuola dei baby youtuber Ma voi non venite pagati, assolutamente Non c'è nessun pagamento Il mio manager Paolo ce ne andiamo Aspetti, aspetti Signoria, allora Io vi devo portare in una scuola di youtuber E quanto mi paghi per portarmi nella scuola di youtuber? E niente, no Giova a te per i tuoi video Vi insegno a fare un po' tutto Ma scusate Come si fa da aver un manager con me? Paolo Ehi, col tempo immagino Sì, sì Devi pagarli Ok ragazzi Questo è il mio bus Quindi salite Mi raccomando Scadente, scadente Oh mio Dio Ma seguite Mi scudì Perché Paolo non può salire? Perché Paolo Perché E Paolo Ce n'è uno anche nel tetto Si è notato Paolo Sta scacciando Paolo Sta scacciando Paolo Paolo Vabbè, ce ne dovremmo fare una ragione Andiamo a scuola Paolo Ma così Ma sa guidare almeno E chi ne ha dato la patente? Assolutamente No Di certo non la scuola di youtuber Vabbè, sono dettagli questi Ok Ragazzi Siete pronti ad andare a scuola Quindi come vi sentite Per il vostro primo giorno Nella scuola degli youtubers Male, chi lo sapeva Che dovevo andare a fare anche la scuola Eh? Come sta guidando? Io pensavo che gli youtuber Erano stupidi, ignoranti E non si lavorano nemmeno E invece non è così Allora, prima delle lezioni Vi faccio vedere questo posto bellissimo Eh, qui ci farete tutte le vostre cose carine Della ricreazione Eh, penserete il video da fare E tutto quello che volete Dove posso poggiare la mia valigia? Paolo, ti piace? Niente, la metti da qualche parte E qui, dove vuoi? Ma Paolo si trova bene? Ok, Paolo, ti piace? Non lo so Chiediglielo tu a Paolo Che cosa? Così gli devo chiedere? Se gli piace il posto Se gli piace il posto Aspetta, allora Siccome è una persona timida Aspetta un attimo, eh Paolo Ti piace il posto? Sì, mi piace il posto Ok, quindi qua ci andrete Quando volete divertirvi È l'ora della ricreazione Avete posato le vostre borse, sì? Sì, sì No Cioè, in realtà Aspetta Eh, posatele Posatele lì Ok, ok, perfetto Vi aspetto qua fuori nel frattempo Eh, mi raccomando Ok, avete fatto? Sì, abbiamo fatto Ok, seguitemi Maestra Maestra, una cosa Io posso diventare come uno youtuber Da un milione di iscritti? Eh, sì Io voglio essere prima in tendenza Eh, sì, sì, sì Con la scuola potete fare tutto Adesso seguitemi Ok Oh, questa è la scuola degli youtuber Siete pronti? Fa schifo Perché qui già? Ma lo youtuber non dovrebbe essere rosso È infatti dentro è rossa Guarda, guarda, è tutta rossa Sì, ma dove faccio i video? Sono già in ritardo Manca un'ora Ok, con calma, con calma Ma prima, la prima cosa che si fa Per iniziare a fare video su youtube È trovare il vostro talento Ciao, si gira Allora, benvenuti in questo nuovissimo video Qua siamo nella scuola degli youtuber Questo è un vlog Eh, siamo con la maestra brutta Che ci insegnerà oggi cosa fare Ma non sono brutta Sono anche vestita bene Ascoltatemi, ok? Signora regista, signora regista Così mi tengo e faccio tutto Allora, allora, iniziamo da te Eh, signorina col manager Lei, qual è il suo talento? Sentiamo Cantare Ah, cantare Il suo talento è cantare Ok, ok Vediamo, vediamo Venga con me, venga con me Ah, non c'è nessun problema Ma facciamo Qui abbiamo delle cose per farla cantare Un piano, delle chitarre Eccetera, eccetera Ok, ok Prenda quello che vuoi E inizi a cantare Un attimino, eh Dovevo prendere la base E riscaldarmi la voce Perché io sono una persona timida Pazzione Eh, io, io scrivo Quello che c'è Ok, vada Pazzione I soldi che cadono sopra di me Copre tutto con i miei video E questo remoto YouTube La regina Sono io Ormai i soldi nel mio cuore riempiono già Per favore Non la fermerà La mia volontà Per favore Per favore Ho conservato Ogni Per favore Per favore Un attimo No, mi sa che il suo talento Non è decisamente il canto, ok Ma come? Ma l'avevo fatta troppo bella In realtà no È proprio Cioè, complimenti per il testo Ma Queste doti non ci sono Non ci sono Allora Lei, signorino In verde invece Che mi dice Che cosa Qual è il suo talento? Allora Il mio talento è mangiare la pizza Ah, bene Vediamo Magari lei può fare Le persone che mangiano Mangiano tante tante cose Prova Provi qua Salve, buongiorno Allora cosa vuole ordinare? No, non dobbiamo ordinare Deve mangiare lei Deve mangiare tu Vai, vai Tutto devo mangiare? Sì, sì, sì Tutto quello che puoi mangiare Vai, prova a mangiare Tutto quello che trovi Ok, aspetta Chi mi può riprendere? Ecco se me lo pubblico Ah, ti riprendo io Ti riprendo io Ok, io Lascia a me scrivere le cose Ok Ciao a tutti Oggi iniziamo a fare un video Bellissimo Perché mangerò Più pizza possibile Mi raccomando Un bel like Perché davvero Mangeremo un sacco di pizza Ok Ok, primo pezzo di pizza Perfetto Primo pezzo di pizza Ok, secondo Ah, prima Quarantatresimo pezzo di pizza Oh mio Dio Che succede? Oh mio Dio Sta bene? Oh, riprendiamo La parte clu del video Riprendiamo Oddio, tutto ok? Signorino Fili Oh Gesù Signorino Fili Va tutto ok? È svenuto È svenuto Ha mangiato troppo Qualcuno qui Sì, like, 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 like Oh mio Dio Signorino Fili È tutto ok? Si sente meglio? È esploso È esploso Ok Oh mio Dio Mamma mia Che cosa è stata? È stata la cosa più bella Ha registrato tutto Così dopo Ma cosa è registrato? Mi avete fatto prendere un corpo Stava per morire Sì Era tutto clickbait Camera Tutto clickbait Ma voi siete pazzi Oh mio Dio È stato tutto Proprio istante Su YouTube Ormai Continuiamo il nostro giro Di YouTuber Allora Lei, signorino Signorino Come si chiama questo YouTuber? Voi sapete come si chiama? Oh, un fallito Signorino YouTuber fallito Che cosa vorrebbe fare lei Nella vita invece? Io voglio giocare Ai giochi di guerra In che senso Ai giochi di guerra? Aspetti Oh mio Dio No, no, no Vuoi giocare agli FPS Vuoi stare da un gioco di guerra? Oh mio Dio Ci penso io, signorino Ci penso io Taser Preso Ah, wow Ok, dovremmo chiamare la polizia Secondo me Mi colpono Bravo, Paolo Mi colpono per la persona Sto udito la persona Sì, polizia No, no, no Interferenze Ma come interferenze? Ma davvero non riesco più a chiamare Colpisci Riprendi, 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 riprendi Riprendi Così possiamo metterlo su YouTube Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi abbiamo trovato due morti a terra E uno penso che sia una maestra brutta di 40 anni Che non ha niente da fare nella sua vita L'altro è un fallito Però grazie per aver visto questo video Metteteci di quanto mi piace E commentate nei commenti con Hashtag Jenny la maestra brutta È morta per colpa di nessuno Non di certo di colpa di Robby Ok, figli Mi so che dobbiamo curare la maestra Ma chi mi paga per farvi da babysitter? A quei piccoli YouTubers Ah In questo caso Se i soldi sono questi Sì, te Tieni Perfetto Buona giornata Allora fate Fate la vostra storia Mi raccomando Perché non ne vuole altri Scusi Non ne vuole altri Però la seconda lezione Ma stai scherzando Ma stai scherzando Il doppio dei soldi Per badare ancora a voi No, no, no Io me ne vado in Messico Ci vediamo Addio ragazzi Addio ragazzi Ma stai scherzando Non mi importa Sono miliardaria Perfetto Perfetto Grazie a tutti.